Ciao a tutti ragazzi sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Fallout Wasteland Warfare, che è un gioco edito dalla Modifius e in Italia portato dalla Cosmic Games. Quindi al solito ragazzi, in descrizione, guardate sempre la descrizione perché se il prodotto vi interessa, io vi lascio sempre il link, fate un click, andate alla pagina del prodotto, che ripeto, in Italia è portato dalla Cosmic Games e potete direttamente ordinarlo. Il gioco è molto interessante perché a differenza di quello della Fantasy Flight, che vi faccio vedere un attimo, questo qui per intenderci, quello che trovate nei GameStop o comunque in tutti i negozi che vendono board game, vedete già, più o meno le scatole sono anche uguali come dimensioni, per quanto il gioco sia prettamente differente e sono tutte e due molto belli, io e mia moglie da grandissimi fan quali siamo di Fallout, soprattutto lei devo dire la verità, però anche a me come ambientazione piace da morire per quanto mi sono fermato a Fallout 1 e 2, perché il 3 e il 4, un prima persona e tutto un po' secondo me ha perso, però a parte questo. Il gioco è molto bello e molto interessante, in questa versione di Fallout Wasteland Warfare vedete qui il set di base e che ci è stato fornito ovviamente, ringraziamo per una copia per fare la recensione. A differenza dell'altro gioco, questo è più, non è un board game, ma questo è un war game di schermaglie, missioni della Brotherhood of Steel contro i super mutanti e altre cose del genere, ed è veramente bello perché ricorda abbastanza da vicino Warhammer 40.000, però questo non è un gioco d'eserciti, ovviamente Fallout non è guerra fra eserciti, sono più che altro schermaglie, però sono rese veramente bene, soprattutto e anche qui e ancora una volta io sarò di parte ma darò un voto maggiore a fine recensione, perché le regole sono semplici e nel regolamento che vedete qui davanti, poi ve lo spiego sommariamente, tanto è un regolamento piccolino e che si legge bene, tra l'altro in inglese, però sul sito della Cosmic Games lo trovate scaricabile, già tradotto in italiano, quindi anche lì veramente ragazzi è un lavoro della madonna, ed è molto interessante soprattutto perché è veloce e le meccaniche sono carine, laddove non finisce come Warhammer 40.000 in semplici schermaglie e battaglie, c'è dentro un libro delle missioni dove addirittura dovete andare a scavengiare, a raccogliere roba, a craftare, troverete armi, è fatto veramente veramente bene ragazzi, e questo è il set di base. Passiamo all'unboxing. Questo è il regolamento di gioco, tra l'altro molto carino, bellino, anche i disegni che ci sono e tutto quanto sono fatti veramente molto bene, a tema ovviamente Fallout, ed è un manuale, come vi ho detto, molto 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 semplice, ma guarda stranamente di solito mi ci vuole almeno due volte per capire bene le regole, invece leggendolo già una volta avevo capito tutto, vi fa vedere gli elementi scenici, poi bellino come montare e staccare le miniature dagli sprue, e andando avanti addirittura vi fa vedere anche passo dopo passo come dipingere le miniature, e poi ovviamente ci sono le regole del gioco, il setup e tutto quanto. La scatola del gioco, ovviamente con tutti i loghi, è proprietà della Bethesda, questo è il set base per due giocatori, le partite di solito sono da due giocatori, da due fazioni, però ci sono anche regole per giocare un pochino di più anche in tre o quattro, comunque il gioco base, quello che si svolge meglio è per due giocatori. Apriamo. Il libro della campagna, perché la figata, come vi ho detto, a differenza di un rammer 40.000 per prendere l'esempio, in Fallout Waste and Warfare c'è proprio anche, potete giocare ogni singolo mappa a sé stante, oppure c'è proprio una vera e propria campagna, che tra l'altro è continuata, perché una delle due fazioni che vincerà magari avrà dei bonus nella partita successiva, nello scenario successivo, ed è veramente molto bello, col setup e tutto quanto. Un libricino col sunto di tutte le regole principali, una mini guida, insomma, via per iniziare più velocemente, l'errata, perché a volte può capitare che quello che leggete su una carta sia differente da quello che avete precedentemente letto nelle regole, succede pochissime volte nel manuale. La regola principale dice, a parte leggetevi sempre l'errata, tenetela da parte, che quello che c'è scritto sulla carta vale sempre come legge e come regola, quindi se una carta dice una cosa differente da una regola di gioco, applicate sempre la carta. Token vari, più metri di misurazione per ciascuna arma e attacco che vi faccio vedere successivamente, e vari token, tipo come dei danni incendiari, danni da congelamento e quant'altro. Bustine, sia benedetto lo sviluppatore da quando hanno deciso di metterle. Mappa di gioco, forse questa l'hanno fatta un pochino troppo di carta, questa se non mi andava cartonata, perché rischia di rompersi abbastanza facilmente comunque. Va bene, dai, per iniziare con quello che costa questo set base, perché costa veramente poco, ci può anche stare. Poi gli elementi scenografici, ragazzi, ve li potete anche fare in casa. Carte, dei personaggi che ci sono dentro, super mutanti, eroi ed altro. Anche, ovviamente, super mutanti che vi faccio vedere. Equipaggiamenti, dadi di gioco, e poi le miniature che, ragazzi, vi faccio vedere le più belle. Si parte dal... si parte dal soldato della Brotherhood. Guardate che cavolo di figata. Questa è veramente a dipingere, deve essere una figata unica. Per passare poi a un super mutante. Un super mutante delle terre selvagge. Per concludere, poi, con la vera e propria icona dell'ambientazione di Fallout, uno quando lo vede già capisce di cosa si parla, di che gioco si parla. Il Deathclaw. Allora, ragazzi, le regole, come ho detto, sono semplicissime. Ho messo in campo un soldato, un aspirante soldato, cavaliere della Brotherhood, e di qua un super mutante. Vedete, ci sono tutte quante le caratteristiche special, come nel classico Fallout, e ci sono le varie caratteristiche, come strength, forza, percezione, endurance, che è la vita e punti ferita del personaggio, quindi nel caso del cavaliere 4 e nel caso del super mutante 8, ovviamente ne ha molti di più, carisma, intelligenza, agilità e fortuna. La fortuna serve per ritirare i dadi e cose del genere. Più, qua giù un fondo, resistenze varie a colpi normali, armi ad energia e danni radiattivi. Quindi, come vedete, l'aspirante della Brotherhood ha un valore di due sui danni normali. Uno sui danni elettrici ad energia e niente, praticamente nessuno all'armatura non fa niente, non rispinge niente contro i danni radiattivi. E di qua, invece, vedete i valori del super mutante. Poi, in alto qua giù, invece, vedete con un simbolino giallo una freccettina il valore di movimento del personaggio della Brotherhood e il valore di carica di corsa e di qua uguale speculare alla fin fine del super mutante, quindi un giallo e un arancione. Praticamente, come funziona il gioco, ragazzi? Il gioco è semplicissimo. Ogni personaggio ha due azioni e all'inizio del turno, quando inizia la partita, dovrà essere deciso, ovviamente con un tiro di dado, mettetevi d'accordo, chi muoverà per prima. Una volta che tutte le unità, tutti i personaggi, le truppe di un giocatore saranno state attivate e mosse, toccherà il giocatore successivo. Con l'unica regola, che cosa dice? Si parte per i movimenti, nel caso che ogni personaggio ha due azioni al turno, più, ovviamente, azioni veloci che possono essere interagire con un oggetto, raccogliere un oggetto, completare una quest, ma comunque quelle sono azioni che si chiamano quick actions. Le azioni principali di ciascun personaggio sono due, quindi due movimenti, due spari, un movimento, uno sparo, un attacco in corpo a corpo, una carica e cose del genere. Quindi, nel caso il personaggio della Brotherhood, il membro della Brotherhood of Steel, decida di muoversi normalmente, si muoverà con l'indicatore giallo, per vedere la distanza. Se decidesse invece di fare una carica, dovrebbe prendere quello arancione, che come vedete è più lungo. Completano poi la scheda e le caratteristiche, ovviamente, gli equipaggiamenti, come vedete l'equipaggiamento da sempre anche questo, nel caso di Hunting Rifle, del Super Mutante, vi dà una gittata corta, almeno con un'arma da corpo a corpo, e una gittata lunga. E sotto vi dirà sempre quali dadi dovete tirare. Quindi i dadi, li vedete qui, tanto sempre disegnati sopra, dal colore, che ne so, gittata corta, due dadi gialli, gittata lunga, invece due dadi verdi. Quindi ci avete sempre segnato qui sotto i dadi che dovrete andare a tirare per le varie gittate, e in più sotto il danno che farà l'arma. Ma in questo caso, se loro due si trovassero così, quindi in campo aperto, senza elementi scenici, ragazzi, sto usando un elemento scenico fatto da mia moglie, vedete? Tra l'altro molto bello, complimenti, amore brava, che è tipo l'edificio dello sceriffo. Tra l'altro anche così apocalittico ci sta, secondo me, anche perfettamente in un'ambientazione come Fallout. Comunque, a parte questo, il personaggio della Brotherhood cosa dice? Ha un Assault Rifle. L'Assault Rifle ha una gittata corta col metro rosso e una gittata lunga col metro verde. Quindi, come funziona il gioco? Io, come vi ho detto prima, ho due azioni, quindi queste azioni potrei, che ne so, fare, decidere di fare un movimento, e vi ricordo che il movimento normale era giallo, e potrei dire, va bene, il Cavaliere della Brotherhood si sposta dietro questo elemento scenico. Prendete sempre la misura dall'inizio della base, sul fronte, e spostatela fino alla fine, sul retro, ok? Quindi lui si sposterebbe andando a toccare la fine del metro giallo. E quindi, mettendolo dietro questa cassa, il mio personaggio è adesso in copertura. Arrivando in copertura, ho fatto il mio primo movimento, e visto che sono il primo a muovere, e quest'altro non si è messo in overwatch, o comunque difesa, che gli consentirebbe di spararmi anche nel turno dell'avversario, che è una regola, vabbè, opzionale, che la potete vedere direttamente dal regolamento, io ho spostato il mio personaggio dietro la copertura. Ora decido di sparare. Lui, ovviamente, trovandosi in campo aperto, non beneficia di nessuna copertura, anche perché questa è una copertura piccola, è una cassa, non è un edificio alla fin fine. Quindi la mia visuale su di lui, con la cittata corta rossa della Sword Rifle, ce l'ho in pieno, e lui non ha copertura. Quindi ora come funziona? Cosa dice il regolamento? La Sword Rifle mi dice che per colpirlo, io devo tirare un dado nero, che il dado nero è sempre per vedere se il colpo va a segno, o cose varie, o se dà effetti particolari, e un dado verde, che è un dado, una specie di dado del fato, che potrebbe modificarvi la cittata. Perché la regola del gioco dice che io, per sparare a lui, devo usare il valore dell'arma. Quindi il valore mio dell'arma, per usare una Sword Rifle dell'aspirante, è praticamente 3 di percezione. Quindi cosa dovrò fare? Dovrò fare un tiro di dado che mi consenta di fare 3 o meno, ok? Quindi voi dovete sempre tirare l'esatto valore o meno rispetto a quello che avete sul dado per colpire. Però entra anche in funzione il dado verde, che potrebbe ulteriormente modificarmi la cittata. Quindi potrebbe dire la difficoltà della prova si abbassa di 1. Quindi nel caso io avessi tirato un 4 e avessi fallito il colpo, il dado con un meno 1 potrebbe dire sì, ma quel 4 meno 1 scala 3, la tua percezione è 3 e quindi alla fin fine l'hai colpito. Lui non essendo in copertura, a quel punto prenderà il danno. E nell'Assault Rifle il gioco mi dice che l'Assault Rifle fa 2 danni di base e non abilità speciali perché a volte capita di tirare un dado che ti esce un simbolino strano, tipo una bottiglia di nuca cola, una perforazione dell'armatura e cose del genere, che ti danno danni particolari all'arma. Ma l'Assault Rifle non li ha. Ha una bella cittata, è un'arma abbastanza stabile, però non fa danni particolari. Quindi a quel punto io cosa devo fare? Prendo i due dadi che lui mi dice per la cittata, quella corta, li tiro sul tavolo ed è venuto fuori, li metto qui accanto, è venuto fuori un meno 1, come vedete, e un simbolo di colpito. Quindi cosa vuol dire? La Assault Rifle fa già 2 danni di base, più 1 che è uscito sul dado, quindi ho fatto 3 danni di base, meno 1 alla prova. Valore che si scala, dado nero e dado verde sono quelli chiesti appunto dall'arma, da fare la prova della cittata con l'arma, però dovete sempre tirare il dado bianco, perché il dado bianco è quello che vi dirà se avete colpito o avete mancato. E ci sono dei simboli che vogliono dire che avete sempre colpito, mentre una X è un risultato sempre mancato. Quindi tirate anche il dado e in questo caso sarebbe venuto fuori un mancato, ma nel caso io avessi tirato, vi faccio un esempio, un 4 col dado, avessi tirato il dado bianco e mi avessi detto hai fatto 4, 4 meno 1 del dado verde avrei fatto un 3 e quindi sarebbe bastato a colpire il mio bersaglio. Adesso facendo il conteggio dell'arma, l'arma fa un danno, dato dal dado nero, più 2 danni dell'arma per un complessivo di 3 danni. Il super mutante ad attacchi normali ha un valore di resistenza di 2, come vi ho fatto vedere inizialmente. Quindi adesso che si deve fare? Il super mutante, visto che è in campo aperto e non beneficia di nessuna copertura, che potrebbe dargli un valore aggiunto all'armatura, deve prendere e tirare il dado rosso. Il dado rosso è il dado per tutti i tiri armatura. Quindi il super mutante dovrà adesso fare una prova di armatura per vedere se il colpo è stato in parte assorbito o no. La prova di armatura come funziona? Intanto si va a vedere che tipo di danno ha fatto l'arma. Un danno normale. Quindi va a vedere sulla sua colonna, sulla scheda del dado normale, del danno normale. Gli ha fatto 3 danni, come ricordate. Lui ha un valore di 2. Adesso deve tirare il dado e fare meno del valore che ha elencato sulla scheda, più ovviamente opportuni modificatori, che non ha in questo caso. Se ha, che ne so, un'armatura potenziata e cose del genere, ma il super mutante è praticamente a petto nudo. Quindi tira il dado e deve fare o meno del valore che ha segnato lì, perché se lo supera, se fa 3 o più, non ha assorbito e prende il danno in pieno. Io tiro il danno, ho fatto un 2, che è uguale al valore mio d'armatura. Questo gioco è bellino, perché ora uno potrebbe dire, nel classico gioco, non lo so, la warhammer o altri titoli del genere, ho fatto 2, quindi ho fatto il tiro-armatura, non becco nessun danno. No, ne presi comunque, perché l'aspirante della bradelude ha fatto 3 danni. Voi dovete tirare non solo meno del valore che avete, uguale o meno del valore che avete di armatura per quel tipo di danno, ma dovete anche togliere il valore che avete fatto, se risultato di successo, dai danni che ha fatto il vostro avversario. Quindi 3 meno 2, 1, questo personaggio avrebbe subito un danno. Però siccome i super mutanti hanno 8 di resistenza, gli metterete un token accanto sulla scheda di danno e adesso ci avrà 7 punti ferita. Se invece di tirare un 2, avesse tirato un 3, avrebbe fallito il tiro-armatura e avrebbe preso tutti quanti i danni, quindi avrebbe presi 3. Questo, ragazzi, è il funzionamento del gioco. Stessa cosa quando lui andrà nel turno successivo, magari ad attaccare il soldato della bradelude, andrà sempre a misurare la distanza, nel caso la distanza minima dell'hunting rifle, perché è un'arma da sniper, è quella blu. Come vedete, col misurino blu praticamente tirerebbe in quasi tutta la mappa. Lo va a colpire, tira i dadi, il dado bianco per vedere se ha colpito o meno, e gli altri dadi effetti elencati sulla scheda, con l'unica cosa che adesso, lui essendo in copertura, ha un valore aggiunto di copertura che gli dà meno 2. Non meno 2 sui tiri, sulle prove e tutto, ma proprio dà direttamente meno 2 alla caratteristica di colpire del suo avversario. Quindi la percezione del supermutante da 4 adesso si abbassa a 2, sparando a lui perché ovviamente è dietro copertura. E la regola è la stessa. Finiscono i regolamenti e le altre cose, le armi da corpo a corpo, i movimenti per arrivare in corpo a corpo, o in caso di campo aperto, si va a fare la misurazione della distanza di carica, si arriva in corpo a corpo al nemico e a quel punto si usa direttamente i valori dell'arma di corpo a corpo. Questo ragazzi, in conclusione, sono tutte quante le regole principali per giocare a Fallout Wasteland Warfare. Ragazzi, in conclusione, questo è il gioco, questo è Fallout Wasteland Warfare. Ci sono anche regole hardcore per giocatori più esigenti, più navigati, però ovviamente non mi sembra per caso di farvele vedere, le leggete direttamente sul regolamento che è veloce, breve e secondo me anche di facile apprendimento. È un gioco interessante, è un gioco di schermaglie, è un gioco veloce, l'avete visto? Davvero, non scherzo, le regole che vi ho elencato per iniziare una partita, guardate questo video, comprate il gioco, spacchettate e siete pronti a giocare. Ovviamente potete fare partite così aperte, tanto per divertirvi, o potete fare partite predefinite nella campagna che vi consiglio, perché così un po' perde l'effetto. Invece è bella la campagna che vi dà la missione, che ne so, la Brotherhood, deve sfondare un campo di super mutanti per andare a liberare un prigioniero, o trovare un'arma particolare. C'è anche una missione tipo sul Water Chip in onore del vecchio Fallout, e quindi il gioco è veramente molto interessante. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per comprarlo direttamente dalla Cosmic Group, dalla Cosmic Games in Italia, cioè per fare l'ordinazione e tutto, perché è portato da loro ovviamente in Italia, se no dovreste ordinare dall'estero. E trovate anche il regolamento da scaricare in italiano. Secondo me è un gioco molto bello, vi dico la verità, è un gioco veloce, è un wargame ragazzi, non è un wargame, però anche comprandovi la scatola di base, con tutte le missioni che ci sono nel manuale, ci giocate per mesi, mesi e mesi, non è un gioco solo per fanatici di Fallout, perché io non lo sono fanatico di Fallout, eppure mi piace comunque da morire, perché è un gioco veloce, immediato e altamente competitivo. Quindi ve lo consiglio assolutamente come voto, proprio perché lo alzo di quel punto, sarebbe stato leggermente più basso, ma lo alzo di quel punto perché è veloce. Io ho imparato veramente a giocarci leggendo il regolamento una volta e guardando un video di 5 minuti, ufficiale tra l'altro, quindi come voto le do 8 e mezzo, perché è bello, è interessante, ci voleva un gioco in questa ambientazione, quindi assolutamente 8 e mezzo. Ringrazio ovviamente per avercene fornito una copia omaggio, e vi ricordo ragazzi, vedete qui in sovrimpressione la nostra casella postale, perché come avete visto nel video precedente, un ragazzo ci ha mandato un gioco da tavola a casa, che tra l'altro mi sposto, non so se si vede, messo nel posto d'onore, Big Trouble in Little China, che poi vi faremo vedere anche un unboxing, fatto a modine e tutto quanto, e lo ringrazio ancora una volta, e se ci volete spedire qualcosa, un wargame, un boardgame, ma anche perché no, anche un giochino piccolino, un gioco di carte, qualcosa che non vi piace, oppure non volete più tenere, o perché no, magari anche nuovo che ci volete fare un regalo, ragazzi, noi ci faremo sempre un video dedicato e vi faremo veramente i migliori ringraziamenti, quindi trovate il link in descrizione per la nostra casella postale. Ragazzi, accendete le spunte alle notifiche su YouTube, perché alla maggior parte delle persone non arrivano direttamente le notifiche di quando un video esce, tutte le volte c'è gente che mi dice, anche Coridan, ma sei tornato a fare video, era un anno che non ti vedevo più, cioè non ti viene nemmeno in mente, no, di passare a vedere il canale, perché è anche normalità, quindi attivate sempre la spunta sulle notifiche. E abbiamo aperto la pagina Typee, dove se ci volete supportare tutti i mesi con una donazione di supporto, vi ricordo ragazzi che è regolare tutti i mesi, quindi comunque nel caso non la vogliate fare, la dovrete poi disattivare a mano. Se ci volete fare una donazione per darci supporto tutti i mesi, la useremo per comprare una nuova telecamera, magari una nuova illuminazione, soprattutto nuovi giochi da tavolo, perché per comprare e proporveli, quindi se ci volete supportare, ecco anche quella, è la maniera migliore. Però vi dico la verità, ragazzi, più che Typee, se lo volete fare assolutamente, ci piace da morire, siamo contenti e grazie veramente di cuore, tanto trovate il link in descrizione, uno volesse donare anche 10 euro al mese, però veramente, se a volte avete anche giochi da tavolo, old school e tutti, che non tenete più, non sapete che farvene, prima magari di venderli, volete regalarli, o anche soltanto, ve l'ho detto, regalarci un gioco usato, un gioco nuovo, per farcelo portare sul canale, lì veramente sarete sempre benvenuti, e anzi, grazie di cuore. Quindi ragazzi, che dire, spero che il gioco vi sia piaciuto, secondo me passate appena i voti, ve lo consiglio, tanti giochi che a me non piacciono sul canale, non ve li porto, e sono proprio sincero, e assolutamente dateci un'occhiata, 8.5, ma 10 per i fanatici di Fallout. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!